Allora, una storia che un po' chissà, ah, si fosse, insomma, Carl Hennig, che era un uomo di più grande giornalista del nuovo, americano, l'ha combattuto io, l'ha combattuto anche in Italia. E dopo che torna oggi, sta? Ma l'era un giornalista e un scrittore. Sì, un notissimo. Non mi no, dappertutto, l'era un inglese. Un inglese. Hemingway. Ed era, ossia, la trovo a Piazienza e in casa l'avvocato Bellocchio. Per quale ragione, non lo so, ossia, Bellocchio, due o tre giorni, io l'avvocato, eccetera. E poi, tutto, io parlavo di pesca, allora, era al polizio, al poliziano. Però, un dava a camera? Mi lavava, mi lavava tanto. E, con sta pesca, ho detto, Bellocchio. Ho un amico, ho un amico, che potrebbe aiutarlo a portarlo a pescare, insomma, con lui, sei un bravo. Il mio amico, adesso parlavo in dialetto. Eh, che andava a parlare in dialetto. Eh, in dialetto. E allora, ho detto, provo a chiedere a sto socio là, all'amico che vogliono portarlo in giro. Allora, se ero disposto, allora, ho un po' a pescare. Infatti, c'è molto Calegari, che aveva, Calegari aveva un ufficio, proprio un dentista, un don togato, insomma, aveva un ufficio a Lazzi, e poi, a Piazzi, lui, ne aveva usato a Piazzi. Ma, lui, ne aveva pescare in dialetto, perché allora è gara, è tutto il tempo. Era appena finire la guerra, durante la guerra, che anno era, che anno era, che anno era pure? E siamo nel 50. Il 50? Eh. 50 dopo la guerra, no? Di 50 dopo la guerra, la guerra finì nel 45, ma la pesca, che mi è sempre stupendo qui, la tiravano. E Calegari, quando voleva pescare, dottor, il trutto, un po' bello, veniva sui la navi, la navi di un rocione, da Madolena, già da sotto. Siamo in siti. E la sotto, e in siti, se ti vede sui, in tra l'altro, lì a sotto, che ti va a rin giro, ti va a rin giro, ti va a rin cura. E poi, dopo, passiamo in una stretta, addirittura, in questa maniera, dire a me che l'acqua, anche io, ha possibilità di tagliare, perché l'acqua taglia con la loro condannamenti, la guardia. E vabbè. Questo accordo e allora io vengono a pescare. Allora, tutto quanto, io, 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 sei. E io partì da Piazzi, a Piazzi? Da Bambio. E abbiamo partito da Bambio. E però, che ho guardato, ho guardato, perché con il potere, con il potere, con la soddisfazione, e ho guardato. E abbiamo partito, noi, la sara, abbiamo partito con una jeep, che aveva il m in guerra, che lì dopo finire la guerra e con questo jeep non aveva fatto molto insomma lì da jeep era pratico ma non aveva un difetto allora credo che mi chiamavano sempre per la fisica allora ero vecchia sacco, ero vecchia, lui è venuto da Toscana e mancabava da fare 2 o 3 km e l'ha detto poi se mi ricordo che aveva la sede io volevo anche costinare con la sede perchè ti ha pensato anche se è che allora l'era mia ha deciso di trovare la bianca e poi ti augureva tutto in qualche maniera e vabbè è vero che non è entrato a stare lì lì non è a stare lì 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 Ciccò Ciccò e nel vento che era lui e fuori lì non era mica tutta la cacca che adesso che era costantemente la poca di chi che a Carilla ha fatto una parguera e io ora sapevo che allora si piava duca allora che era toccata ma era duca anche quello che ne aveva vinto lo starebbe a dire io lo so io cattavo che avevo vinto lo starebbe ma io piavo vinto lo so allora se andava duca vinto lo so adesso lo fanno in tutta maniera e fanno cadere buona ma io fanno in qualche maniera vinto lo so vinto lo so e beh ma io come sapevo mi serve bianco ma vorrei saccare un crostino e allora dovevo fare maionizzo non era più lento di fare maionizzo si formaggio sciacca un grande di credito ti beca via e guarda io te con il panno che è che è un formaggio sciacca un formaggio nesso che ci compro e in italiano era come parlava parlava molto bene in dialetto si farà capire perché fosì che sa si capisava parlare l'italiano tutti i cacchi indistintamente in privo e poi dopo che era in scuola si appicolò per me alla scuola per far parlare una parola italiana ti trovi meno io lo scrivo ma gli italiani non sai il dialetto che si parla di dialetto il dialetto è se ti fai parlare se ti rispondi in italiano ti capisci il seguito l'italiano sai cosa e poi ci sono e poi ci sono che ci sono e poi ci sono e poi ci sono e ho detto ma questo che è un formaggio piccante piccante che è con un uenio bianco dove? e poi mangia un mese di formaggio e tre bottigli di bianco e poi ne pescate ognuno è adesso adesso così pescheranno si coni adesso vieni così pescheranno perchè viena pescato oramai mentre i bianco avevano la fenda non avevano poco non avevano con la sala invece con lì avevano una bocca con lì avevano un'altra perché avevano il maionistro avevano la vita propria eh certo che periodo era di te? eh che periodo era di te? e gli avevano il tempo della pesca come adesso come adesso e allora gli va gli va a pescare gli va a pescare gli va a pescare e avevano lui a carregare la nuova dritta un po' non lo so che era si può pescare e gli va a pescare e gli va a pescare più che altro a pescare ma si è divertito anche a curare le stu quando la guardò stu questo stucanà questi precipizi lì intorno a posizione con una spaventura ci ha detto questo che è la valle più bella del mondo che è la storia che è la storia che è la storia che è la valle più bella del mondo mi ha piaciuto questa che però lì è la vallata più bella del mondo e lo ha detto un po' dappertutto questo qua ne ha comesso a dire che vengo e l'ha detto che è la trebia è la trebia va bene no no se vengo qui a pescare non è la trebia e l'ho detto e tutto che è qui arriva al d'alto e allora siamo a pescare e siamo tornati in te con le tre contenti di pescare e non è l'ora da tornare a pescare ma io torno a passare qui da un camo con i bianchi un po' e allora torno a andare con la bottiglia con i bianchi ma con loro avevano un po' di formaggio lì e lì ho mangiato questa mattina mentre lì ho portato con un po' di pane e il formaggio e vengono cioè l'orso che vengono non mi ha preso mentre lì ho mangiato e lì ho mangiato il cuore e lì ho fatto e lì ho fatto il netto il netto il calegario di Gapura adesso è andato adesso il figlio del cavio che? stamattina mi vedevo tre bottiglie adesso do tre adesso è andato a basso è andato a basso e poi a strada è andato in qualche maniera per il papì poi avevano che avevano un troppo adatto perché era una jeep era una jeep e lì ho montato questa jeep la strada la gara era una strada la sua un momento lì la sua un momento la sua guidava lì la gara guidava e mi un po' lì 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 eccetera un po' lì un po' lì un po' lì un po' lì ma non parlava mia perché se un po' lì si dice qualcosa che si sa magari si sa bene allora impaurito ma si dà un po' lì e lui piava un po' lì un po' lì un po' lì e ero io ero in piazza in piazza in piazza e lui è un chinesi d'un saggip uno chinesi una parte dall'altra e si arriva lì da una parte il sembra a sé come di il sembra il sembra il sembra per la combinazione il sembra il sembra il sembra il suo e poi dopo il sembra il sembra il sembra perché lì dopo i carriari l'anno lì 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 la mia l'anno è lì insomma quattro stacche di bocca tanto trafume 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 la mia lì lì venire a poco tra.